Uri al sonno, campi amuri a te! Una festa bellissima all'insigna della dolcezza, una sorpresa meravigliosa quella per Silvia Provedi, neomamma di Nicola che è tornata a casa dall'ospedale e ha trovato ad attenderla, la sorella gemella Giulia e le amiche più care per un party di benvenuto. Torte, fiori, palloncini, gelati e dolcetti, tutto in onore della piccola nata lo scorso 18 giugno. Silvia dopo il parto e il giorno in ospedale si è fatta bella per tornare a casa e abbracciare tutta la sua famiglia.